Ho assistito in queste ore ad un dibattito demenziale, è sembrato che abbandonare la mascherina fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la Costituzione democratica. Un dibattito totalmente idiota. La mascherina serve a proteggere innanzitutto se stessi e le proprie famiglie. Ho ascoltato qualcuno addirittura dire che senza la mascherina verranno i turisti in allegria. A me pare esattamente il contrario che i turisti arrivano quando sono sicuri che c'è una società responsabile, non scapigliata e perduta da qui a un fine settimana nella movida irresponsabile che ci porterebbe e ci porterà, se sarà irresponsabile, a un nuovo calvario nel mese di ottobre. Tanto per essere chiari.